I primi passi su Marte compiuti non da un uomo ma dal rover Perseverance, il veicolo della NASA chiamato a esplorare il pianeta. Nel primo test ha percorso 6 metri e mezzo lasciando letteralmente un'impronta su Marte. Questo piccolo percorso di 33 minuti ha consentito di calibrare gli strumenti di bordo. Una volta a regime, il rover potrà percorrere circa 200 metri al giorno. La voce di sottofondo è di Robert Hogg, uno dei capi della missione, che mostra i sensori del vento di Perseverance, frutto di un lavoro finanziato dall'Unione Europea e condotto dall'Istituto Nazionale di Tecnica Aerospaziale di Madrid. Nei 33 minuti di test il rover Perseverance ha spostato le sue sei ruote in avanti per 4 metri e quindi ha girato sul posto sinistra ed è tornato indietro percorrendo altri 2 metri e mezzo. Perseverance dovrà fare altre prove prima di assistere il drone-elicottero Ingenuity nel suo primo volo, la cui data ancora non è stabilita.